All'indomani della strage di Tempera sono tanti gli interrogativi aperti. Il professor Carlo Vicentini, che ha sterminato la sua famiglia nella villetta a Tempera, la dinamica è apparsa subito abbastanza chiara, ha lasciato un biglietto dopo il gesto compiuto, ma gli inquirenti in queste ore lo stanno ancora decifrando, perché scritto in uno stato evidentemente di grande confusione, parole a tratti farneticanti. La dinamica appare chiara, come si diceva, il medico nella notte tra mercoledì e giovedì avrebbe freddato i familiari mentre erano a letto, colpiti nel sonno, probabilmente a far scattare il tutto la preoccupazione per le condizioni del figlio massimo di 43 anni, con una grave disabilità, che si era aggravato negli ultimi tempi ed era stato anche ricoverato in ospedale. Probabilmente la strage era premeditata perché Vicentini aveva detto al fratello di voler trascorrere qualche giorno a Tortoreto, di recente era stata al poligono di tiro, aveva affidato i suoi cani da cazza, elementi che fanno pensare alla premeditazione. Mercoledì sera gli ultimi contatti della famiglia, che aveva avuto amici a cena alle due della notte successiva, l'ultimo accesso della figlia Alessandra, dietista all'asla di Teramo sul cellulare. Le finestre erano chiuse ma la storia di Tortoreto non aveva fatto pensare al peggio. Poi però i sospetti, una nipote ieri a ora di pranzo, ha deciso di entrare facendo la macabra scoperta. I cadaveri, quattro di Vicentini stesso che si è sparato in testa della moglie Carla e dei figli Massima Alessandra, erano in stanze diverse, sono previste comunque le autopsie. Tutti parlano di un professionista straordinario ma soffriva per le condizioni del figlio, così come ribadito anche dall'avvocato di famiglia Emilio Bafile, il PM Guido Cocco. Chi lo conosceva bene è il consigliere comunale e avvocato, Guglielmo Santella. Devo dire che a Tembera ci si conosce tutti, è una grande famiglia, quindi quando abbiamo appreso la notizia non ci si voleva credere. Sono andato subito lì sul posto, ho parlato con i parenti che conosco da sempre, sono nato lì, anche con lui ultimamente avevo parlato di politica in occasione delle ultime votazioni comunali, insomma un professionista stimato, una persona brava, nota, l'intera famiglia comunque era ben voluta, ben vista, un'intera comunità è veramente sotto shock. Lui viveva una situazione familiare molto difficile, aveva un figlio disabile con una malattia molto grave, a quanto pare, sempre questo io ieri ho avuto modo di avere questa notizia, il figlio ultimamente si era aggravato, aveva avuto un peggioramento sostanziale. A questo si aggiunge anche il fatto che lui in pensione da poco tempo probabilmente avrà avuto modo di stare più tempo in casa, prima lavorava dalla mattina alla sera, quindi forse ecco ultimamente rendendosi conto di questa grave situazione solo lui sa qual è stata la motivazione di questo gesto. Ecco mi viene solo da fare una considerazione, si ama, si vuole bene ad una persona in maniera così folle, così esagerata che si arriva al punto di togliergli la vita. Ecco questo gesto solo lui ecco sa per quale motivo l'ha fatto, io dico solo c'è da fare silenzio, c'è da rispettare il dolore dei parenti e niente esprimo cordoglio e che riposino in pace. Il fratello Giovanni non sa darsi pace, la malattia del figlio però lo aveva assegnato e fiaccato profondamente, molti amici raccontano di lui che preferiva stare solo ultimamente, da poco tempo era in pensione, a chi lo aveva chiamato per delle visite da quello che raccontano alcuni pazienti aveva dato il nome di un altro professionista.